Un gruppo di studenti hanno visitato nel giorno in cui si è scoperta la targa in onore di Mario Molinari la sua casa musea e le sue opere. Un commento ragazzi, un'impressione? Mi piacerebbe pure mai una casa così. Molto particolare. Ha dato davvero una forma ai colori. Mi piacita molto la sua casa. Molto particolare. Carina, poi era unica. Unica del suo genere. Questa casa mi è piaciuta molto perché comunque lui è riuscito a giocare come un bambino come se giocasse con dei, non so, tipo dei Lego a giocare con delle sculture e dei colori. Mi è piaciuta molto. Non me lo aspettavo così, mi è aspettavo diverso, mi è piaciuto molto. Molto fantasiosa, molto bella.